Allora, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio veramente il professor Alessandro Roncaia per aver accettato il mio invito. Lo presento brevissimamente per poi lasciare a lui la parola dopo un saluto istituzionale del professor Terzani. Alessandro Roncaia è professore emerito di economia politica all'Università di Roma La Sapienza, dove ha insegnato dal 1981. In precedenza ha insegnato per diversi anni anche all'Università di Perugia. È allievo del professor Paolo Silos Labini, si è laureato in scienze statistiche demografiche e attuariali nel 1969, ha poi studiato a Cambridge nel Regno Unito con Piero Sraffa. È stato direttore di Moneta e Credito e di BNL Quarterly Review ed è stato presidente dal 2010 al 2013 della Società Italiana di Economia. È socio dell'Accademia Nazionale dell'Incei dal 1998 e attualmente è membro del Consiglio di Presidenza. Ha collaborato con vari quotidiani e settimanali e ha curato una serie di 26 trasmissioni sulla storia del pensiero economico, la fabbrica degli spilli, per la RAI. Tra i suoi libri ne cito solo qualcuno, sono stati tradotti in molte lingue. Cito in particolare La ricchezza delle idee, pubblicato dalla Terza nel 2001, che ha vinto il premio Blanchi della Società Europea di Storia del Pensiero Economico nel 2003. Poi cito Il mito della mano invisibile, un altro ancora Economisti che sbagliano, Mito della mano invisibile del 2005, Economisti che sbagliano del 2010. Poi Breve storia del pensiero economico del 2016 e infine L'età della disgregazione, ancora per la terza del 2019. Nel 2019 gli è stato assegnato il Guggenheim Prize for the History of Economic Thought. Quindi questi sono solo alcuni cenni per introdurre, non c'era bisogno, il professor Alessandro Roncaglia. Passo la parola al professor Simone Terzani per un saluto da parte del Dipartimento. Il professor Terzani è l'attuale Presidente del Consiglio Intercorso in Economia. Sì, eccomi qua, buon pomeriggio a tutti e io appunto innanzitutto ringrazio il mio professor Roncaglia per la disponibilità a intervenire e quindi a portarci la sua esperienza e al tempo stesso ringrazio il professor Signorelli per aver organizzato questo incontro. Da parte mia appunto già il professor Signorelli mi ha presentato, vi porto i saluti del Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Come già è stato ricordato il mio professor Roncaglia è stato presso il Dipartimento prima come assistente e poi come professore associato se non sbaglio, quindi fa sempre piacere avere ospiti che sono passati da questo Dipartimento e che danno lustro al nostro Dipartimento. Io appunto sono attualmente Presidente del Consiglio Intercorso in Economia e quindi è per questo che faccio questo ruolo insomma di portare i saluti istituzionali da parte del Consiglio Intercorso e del Departimento di Economia in generale. Di nuovo quindi grazie per la disponibilità e buon lavoro per l'incontro di oggi pomeriggio. Grazie Simone e passo subito la parola a Alessandro Roncaglia che ha anche delle slide da condividere forse. Sì, senz'altro. Buon pomeriggio a tutti e adesso metto in condivisione le slide così facciamo. Vi dicevo che il titolo della chiacchierata è cosa ci insegna la storia del pensiero economico. Essenzialmente la mia tesi è che ci insegna a orientarci nella confusione delle opinioni di politica economica e delle teorie che sono molteplici e sono parecchie perché esistono diverse concezioni di base. I due testi che sono un po' la base di questa chiacchierata, la ricchezza delle idee, il titolo indica proprio il fatto che esistono tantissime idee diverse dell'economia politica. Ogni economista in sostanza ha una sua concezione. Io proverò a semplificare utilizzando delle dicotomie, ma dietro queste dicotomie c'è un intero mondo. Il secondo titolo, l'età della disgregazione, indica il fatto che oggi questi vari campi in cui si è suddivisa l'economia marciano separati senza rendersi conto che per gli aspetti di teoria ai quali tutti si debbono riferire, in qualsiasi campo si lavori ci si deve riferire a un po' di teoria, si prende una delle varie teorie possibili e in genere la più sbagliata possibile. Ora esistono anche concezioni diverse della storia del pensiero economico e questo ci spiega un po' il motivo di confusione. La storia del pensiero economico è suddivisa tra i sostenitori di una concezione cumulativa e i sostenitori di una concezione concorrenziale. I sostenitori della concezione cumulativa si rifanno al positivismo, cioè all'idea che esistono enunciati analitici come quelli della matematica che sono veri se reggono logicamente, enunciati sintetici che riguardano il mondo e sono veri se rispecchiano quello che succede nel mondo e enunciati metafisici che riguardano cose che non sono né come dire logiche né oggetto di logica né oggetto di verifica empirica, tipo gli enunciati relativi all'arte, alla poesia, all'amore e così via e di questi enunciati non è possibile discutere. Per quelli analitici e sintetici è chiaro che o sono veri o sono falsi e quindi noi possiamo parlare di un progresso continuo della teoria economica per accumulazione di enunciati corretti e eliminazione degli enunciati sbagliati. Pantaleoni diceva che il solo scopo della storia del pensiero economico è di raccontare le origini delle teorie esistenti oggi perché appunto essendoci un progresso continuo quello che abbiamo oggi di teoria economica è superiore a tutto quello che è esistito in precedenza. Di conseguenza molti economisti con questo orientamento hanno sostenuto che è inutile studiare storia del pensiero economico, includere la storia del pensiero economico nei curriculi di studio. Economisti noti come Hicks e Robertson, che poi in realtà si sono occupati di storia del pensiero economico facendo anche dei grossi errori, hanno sostenuto che non vale la pena di perdere tempo a leggere gli economisti classici. Uno dei più sottili tra gli economisti di questo filone, Jacob Weiner, un grandissimo storico del pensiero, sosteneva che invece anche all'interno di una concezione cumulativa conveniva studiare la storia del pensiero per avere il senso di pienezza anche delle piccole risposte, cioè per capire da dove vengono le domande e da dove vengono le risposte, per comprenderle veramente a pieno. La concezione concorrenziale parte da una critica della concezione cumulativa, essenzialmente una critica della distinzione tra gli enunciati analitici e gli enunciati sintetici. Gli enunciati analitici puri sono solo quelli della matematica. qualsiasi enunciato in altre scienze è una commistione di elementi di logica e di elementi di corrispondenza alla realtà. Anche gli enunciati sintetici, la realtà è complessa, non può mai essere catturata da alcune semplici proposizioni, includono delle semplificazioni, includono appunto degli elementi di scelta per cui non sono mai veri esattamente e non sono mai falsi completamente. Quello che la scienza deve fare, sosteneva Popper, è di procedere per congetture e confutazioni, rifiutando l'idea che esista una teoria vera. Le congetture possono essere i cigni sono bianchi, diceva Popper perché andando a Vienna al Prater vedeva solo cigni bianchi, ma a un certo punto è possibile che dopo migliaia e migliaia di osservazioni di cigni bianchi si scopra una specie di cigni neri come in effetti successe in Australia. E quindi basta un controesempio come confutazione. Kuhn distingueva tra scienza normale e rivoluzioni scientifiche. raccontava il modo di procedere della scienza. Diceva per lunghi tratti la scienza procede all'interno di un paradigma, cioè condividendo alcune assunzioni di fondo di base, l'idea di quali fossero i problemi importanti e l'idea delle tecniche da utilizzare per risolvere i problemi importanti. La scienza normale va avanti fino a che non arrivano delle rivoluzioni scientifiche. Il suo esempio era il passaggio dall'astronomia tolemaica all'astronomia copernicana. L'astronomia tolemaica è andata avanti per secoli, a un certo punto si è visto che le cose diventavano troppo complicate per spiegare con gli epicicli tutta l'andamento dei corpi celesti e quindi si è passati all'astronomia copernicana. Ora, questo nel campo dell'economia non è esatto, perché nel campo dell'economia esistono contemporaneamente più paradigmi, cioè diversi tipi di assunzioni di fondo, diverse scelte di problemi e diverse tecniche per risolverli. Altri economisti hanno sostenuto, altri filosofi hanno sostenuto procedure diverse. Quel che interessa adesso è ricordare una distinzione proposta da Schumpeter, tra tre fasi di ricerca in economia. La prima è una fase preanalitica in cui io mi oriento in qualche modo nello scegliere un problema e una concezione di che cosa è importante. Poi c'è una fase di concettualizzazione in cui io formalizzo, cioè scelgo con una certa precisione i concetti di cui occuparmi, e segue una fase di costruzione di modelli, costruzione di modelli teorici, nei quali utilizzo le variabili concettualizzato nella fase precedente. Oggi in economia si tende a lavorare solo all'interno di questa terza fase, dimenticando le due fasi precedenti. Ed è questo uno dei motivi per i quali si è trascurata la storia del pensiero economico, che è essenziale per comprendere e valutare le fondamenta concettuali delle diverse impostazioni teoriche. Come adesso vedremo, concetti che hanno lo stesso nome hanno però all'interno di teorie diverse significati diversi. Allora, io per descrivere un po' il campo di discussione economica, utilizzo due dicotomie, quella tra classici e marginalisti e poi quella tra marginalisti e keynesiani. Gli economisti classici sono Smith, Riccardo, ma anche Sraffa, il mio maestro, uno dei miei maestri. Gli economisti marginalisti sono Jevons e Verras nell'Ottocento, ma Samuelson più di recente. La distinzione tra questi due gruppi riguarda tantissime cose, sono molto diversi e è una cosa di cui ci si dimentica quando si leggono gli autori dell'altro gruppo, oggi gli autori classici, con le lenti degli autori marginalisti. Si possono fare tanti errori proprio classici, errori tragici di storia del pensiero economico, che è una scienza che si basa sul testo e il contesto. Un'interpretazione di un autore è giusta, è giusta insomma, è la migliore disponibile se riflette al meglio i testi di quell'autore e il contesto in cui quelle teorie sono state sviluppate. Quindi ci sono dei criteri di scelta tra le interpretazioni di storia del pensiero. Per esempio, chi sostiene che la mano invisibile del mercato è una tesi sviluppata da Adam Smith, è un'idea che va in giro da tantissimo tempo, dovrebbe leggere Smith. Io l'ho letto tutto e vi garantisco che Smith non parla mai di mano invisibile del mercato, nemmeno nei suoi scritti minori. E quando parla di mano invisibile, in un caso ne parla spregiativamente, la mano invisibile di Giove, dietro la quale si rifugiavano gli antichi quando non riuscivano a spiegare un fenomeno naturale, i lampi, i tuoni e così via. In altre due occasioni ne parla, ma adesso l'importante è di dire che questa tesi della mano invisibile del mercato, come ci viene presentata oggi dalla teoria marginalista, Smith proprio non l'aveva mai sostenuta. Allora, la concezione dell'economia. Sono due posizioni diverse. Gli economisti classici concepiscono l'economia come flusso circolare o a spirale. Si producono merci che servono come mezzi di produzione per continuare a produrre merci o come mezzi di sostentamento per permettere ai lavoratori di continuare a lavorare. Quindi il sistema si riproduce nel corso del tempo attraverso questo flusso circolare in cui le varie unità produttive si scambiano i mezzi di produzione, i mezzi di sussistenza. Dall'altro lato noi abbiamo, con i marginalisti, l'idea dell'economia come di una strada a senso unico che va dalle risorse, che sono scarse, le risorse originarie, fino alla soddisfazione dei nostri bisogni o desideri. In mezzo a questa strada ci può essere una fase di produzione, ma quando si studia la teoria marginalista all'inizio nella sua forma più semplice, si studia la teoria del consumatore che dispone di un dato a montare di reddito e che per soddisfare al meglio i suoi desideri sceglie quali merci acquistare e quali beni consumare. Mercato. Anche questo nome indica cose diverse. Per gli economisti classici il mercato indica un flusso di scambi ripetitivi. In ogni periodo le imprese automobilistiche acquistano acciaio, elettricità e così via. Vendono automobili che vengono utilizzate, trattori mettiamo, che vengono utilizzati in agricoltura per produrre grano e in ogni periodo di produzione da ogni unità produttiva escono prodotti che vengono utilizzati in larga parte dalle altre unità produttive come mezzi di produzione e in parte relativamente minore dai lavoratori come mezzo di sussistenza o da altre persone che non lavorano, hanno altre fonti di reddito. Il concetto di valore anche questo rispecchia le diverse impostazioni. Per i classici il valore, il valore di scambio, indica la difficoltà di produzione dei beni, mentre per gli economisti marginalisti indica la scarsità relativa, la scarsità delle risorse rispetto agli usi possibili. Questo significa che i dati che le due teorie utilizzano per determinare il valore di scambio dei beni sono diversi. Nel caso dei classici i dati essenziali sono la tecnologia che ci dice cosa occorre per produrre un bene e la regola di distribuzione tra le classi sociali e tra le stesse imprese. Dall'altro lato i dati necessari, come sapete quando studiate appunto la teoria del consumatore, sono risorse e preferenze. Prezzi, come il valore è la stessa differenza. I prezzi sono da un lato considerati indicatori della difficoltà di produzione, dall'altro lato sono considerati indicatori della scarsità relativa dei vari beni. Una nozione essenziale per la teoria marginalista è assai meno importante per la teoria classica è quella di equilibrio. Per la teoria marginalista l'equilibrio è eguaglianza, eguaglianza esatta, tra domanda e offerta. Si dice che un mercato è in equilibrio quando su quel mercato la domanda e l'offerta sono uguali e questo è permesso dalla flessibilità dei prezzi che si portano a quel livello al quale la domanda, che diminuisce quando i prezzi crescono, eguaglia l'offerta che invece si dice che aumenti quando i prezzi aumentano. Nel caso degli economisti classici si può parlare di equilibrio ma in un senso molto più leggero, come condizioni di riproduzione del sistema economico. Un sistema economico in equilibrio quando ogni settore è in grado di riacquistare i mezzi di produzione, di pagare i lavoratori e di ottenere il profitto normale senza il quale gli imprenditori possono cambiare settore. Questo significa che per gli economisti classici la determinazione di prezzi e quantità è separata, cioè i prezzi si determinano da un lato sulla base della tecnologia e della regola distributiva e le quantità prodotte vengono determinate da un altro lato essenzialmente sulla base dell'andamento storico, cioè non le determino come grandezza di equilibrio in un dato momento, ma le determino guardando alle variazioni che le quantità prodotte subiscono rispetto al periodo immediatamente precedente. Nella teoria marginalista viceversa, come sapete, c'è una determinazione simultanea di prezzi e quantità. L'equilibrio è concepito come composizione delle forze opposte della domanda e dell'offerta in analogia a quanto accade nella meccanica statica. Reddito occupazione, anche in questo caso le differenze sono enormi. Se voi leggete gli economisti classici, Smith, Riccardo, non trovate una concezione di equilibrio di piena occupazione, non trovate la nozione di piena occupazione. Trovate l'idea che l'occupazione varia nel tempo in base all'accumulazione che si ha man mano da parte degli imprenditori dei mezzi di produzione necessari a produrre. L'occupazione si espande quando si espande la base produttiva tramite gli investimenti. E la piena occupazione è un concetto che viene rifiutato proprio perché non si considera un mercato del lavoro in cui la piena occupazione corrisponderebbe all'eguaglianza tra domanda e offerta di lavoro. In realtà, se ci si riflette, la piena occupazione è una nozione molto strana che non ha una corrispondenza nella realtà. Quando si diceva dopo la crescita postbellica che la Germania era arrivata in piena occupazione, la Germania ha continuato tranquillamente a crescere a ritmi rapidissimi, basandosi sull'immigrazione, se vogliamo. Cioè l'idea che esista una data quantità di occupazione è un'idea che non funziona. Scarsità per l'impostazione classica è una complicazione secondaria che viene trattata attraverso la teoria ricardiana della rendita, senza entrare nei dettagli, ma insomma viene trattata per poterla mettere da un lato, perché poi, come ad esempio fa Marx, quando si studia un sistema capitalista normale, abbastanza progredito, si considera la contrapposizione tra profitti e salari e la rendita, la terra, la si lascia da parte. Invece, nella concezione marginalista, la scarsità è l'elemento dominante, è la base per capire, per studiare, per teorizzare il funzionamento dell'economia. Preferenze. Nella teoria marginalista sono considerate un dato soggettivo individuale primitivo. Data la scheda delle preferenze del consumatore, io posso costruire la mia teoria del consumatore. Negli economisti classici non c'è quest'idea. L'idea piuttosto è che i consumi, la struttura dei consumi, è un elemento estremamente flessibile che dipende dalle istituzioni, dalle abitudini, dalla storia, dall'organizzazione della società. John Stuart Mill, uno degli economisti classici, proponeva una scienza nuova, l'etologia, proprio per studiare il comportamento umano nelle attività normali di vita, quindi i consumi. Produzione. Per gli economisti classici è l'elemento centrale. Non si parte dalla teoria del consumatore. La teoria del consumatore è irrilevante. Si parte dalla divisione del lavoro e si studia come il sistema produce, quanto produce, come viene diviso tra le varie classi sociali, tra i vari soggetti, quello che viene prodotto e così via. E come cambia la divisione del lavoro nel tempo, che per gli economisti classici è un problema importantissimo. Invece, per la teoria marginalista, la produzione è un secondo passo nell'analisi. Il primo passo è lo studio dell'equilibrio del consumatore. Poi si arriva allo studio dell'equilibrio del singolo produttore e poi con la teoria dell'equilibrio economico generale, quando ci si arriva, si arriva allo studio della produzione nel suo complesso. Ma sempre come elemento intermedio tra le risorse originarie e i gusti e i desideri finali dei consumatori. Distribuzione del reddito. Anche in questo caso c'è una differenza essenziale. Per gli economisti classici la distribuzione del reddito riguarda il conflitto tra le classi sociali e tra i ceti, tra i vari gruppi sociali. Per gli economisti marginalisti non c'è conflitto, perché i prezzi dei fattori di produzione, capitale, terra e lavoro, o dei singoli lavoratori, dei singoli imprenditori, eccetera, sono prezzi di equilibrio, sono determinati dalla situazione generale del mercato e il tentativo di modificarli allontana dall'ottimo dell'equilibrio che è appunto eguaglianza tra domanda e offerta di ciascun fattore di produzione. C'è un salario giusto, una remunerazione giusta del lavoro. Se io mi allontano dal salario di equilibrio, se mi allontano aumentandolo, provoco una disoccupazione. Quindi l'esistenza della disoccupazione, secondo la teoria marginalista è provocata essenzialmente dalle richieste eccessive dei sindacati che portano a un livello di salario troppo elevato rispetto a quello che dovrebbe essere il salario di equilibrio. E questa è un'idea che alcuni economisti classici più recenti, come Sraffa, hanno dimostrato essere sbagliata. Lo ha dimostrato anche Keynes, adesso non mi posso soffermare su questo aspetto, ma le dimostrazioni non sono mai state confutate, per lo più vengono ignorate. Notate che io sto in pratica parlando della macroeconomia mainstream in questo momento. La macroeconomia mainstream si basa sulla teoria del valore marginalista, cioè sull'idea che esista un equilibrio di piena occupazione e che gli allontanamenti da questo equilibrio dipendono da una fissazione sbagliata dei valori del mercato. Questo lo vediamo meglio confrontando la seconda dicotomia, i marginalisti con i keynesiani. Teoria dell'occupazione. La teoria marginalista sostiene che la condizione di equilibrio, quando i mercati sono lasciati liberi di operare, è quella di piena occupazione. Keynes sostiene invece che anche quando i mercati sono lasciati perfettamente liberi di operare, noi possiamo trovarci in una situazione di sotto occupazione persistente. Anzi, Keynes sostiene che questa è la situazione generale, che una situazione di piena occupazione è un caso estremo difficilissimo da raggiungere. Una differenza fondamentale, che non si ritrova molto spesso neppure nei manuali che parlano della teoria keynesiana, riguarda l'incertezza. La concezione keynesiana dell'incertezza è una concezione un po' particolare. Keynes in effetti nasce come matematico e il suo primo lavoro è un trattato della probabilità, in cui propone una concezione della probabilità diversa da quelle allora prevalenti. Poi questa concezione della probabilità lui la utilizza nelle sue teorie. Se ci dimentichiamo questo aspetto, le sue teorie risultano difficili da capire o più facilmente vengono risucchiate nell'ambito della teoria marginalista normale. Gli economisti diciamo non keynesiani utilizzano una distinzione proposta da Knight, un economista di Chicago, lo stesso anno in cui Keynes pubblicava il suo treatise on probability, la dicotomia tra rischio e incertezza. Il rischio è quello probabilistico, quello che possiamo trattare con gli strumenti del calco delle probabilità, lancio di dadi, quanto è probabile che venga? 12 se lancio due dadi o 18 se lancio tre dadi, o 14 se lancio tre dadi e così via. L'incertezza è quella che non è sottoponibile ad analisi, questa è la dicotomia di Knight. Keynes invece diceva che nel mondo, in sostanza, il caso della conoscenza perfetta, e nella conoscenza perfetta lui includeva anche il rischio probabilistico, è un caso estremo che non si verifica praticamente mai, ma allo stesso tempo non si verifica praticamente mai nemmeno il caso dell'incertezza completa, perché di fronte a qualsiasi situazione io ho delle informazioni. Quindi Keynes proponeva una teoria della probabilità con una doppia dimensione, da un lato il calcolo delle probabilità, dall'altro quello che lui chiamava il peso dell'argomento. Io posso dire che la probabilità che domani piova è del, non so, 45%, ma il peso dell'argomento è diverso a seconda che io sia uno studioso di meteorologia o che io sia uno che semplicemente ha guardato fuori dalla finestra, ha visto com'è la situazione di oggi, ha pensato speriamo che domani migliori, e quindi il peso dell'argomento varia a seconda del stato di conoscenze che il soggetto ha. E questo significa che il peso dell'argomento varia moltissimo a seconda del tipo di problema che noi ci poniamo. Se io sono un imprenditore che deve decidere, o una fabbrica di biciclette, e devo decidere quante biciclette produrre nella prossima settimana, guardo alla domanda corrente di biciclette, più o meno posso dire aumentiamo un po', riduciamo un po', restiamo con una produzione stabile, sono relativamente sicuro di quello che posso stabilire come andamento del processo produttivo per la prossima settimana. Se sono un imprenditore che deve decidere se costruire una fabbrica di biciclette, tanto peggio se sono un imprenditore che vuole costruire una centrale elettrica, ecco se devo costruire una centrale nucleare, io ho bisogno di vari anni per ottenere i permessi, costruirla e tutto quanto, e poi questa centrale mi deve funzionare per un 30 anni almeno, quindi io debbo prevedere quali saranno i prezzi dell'energia elettrica, i costi di produzione, per un periodo di almeno quattro decenni, quando discuto di investimenti ho appunto problemi di questo tipo. Se invece sono un finanziere e devo stabilire se comprare o vendere dei bot o dei BTP, io debbo fare essenzialmente delle previsioni sui tassi di interesse e le faccio in questi mercati, si compra e si vende da un secondo all'altro, quindi le faccio secondo meccanismi per i quali è più importante stabilire che cosa pensano gli altri di quello che succederà, che non stabilire cosa effettivamente succederà nei prossimi giorni, perché quello che pensano gli altri adesso influisce sul prezzo del BTP del prossimo minuto, dei prossimi dieci minuti. Quindi per Keynes i problemi degli investimenti, la teoria dell'investimento, la teoria dei livelli di produzione, quindi dei livelli di occupazione e la teoria della finanza vanno separate. La teoria della finanza viene prima della teoria degli investimenti e la teoria degli investimenti viene prima della teoria della produzione perché la finanza determina le condizioni di investimento, l'ammontare degli investimenti investimenti, determina l'ammontare dell'occupazione attraverso il moltiplicatore che avrete imparato a conoscere e il livello del reddito determina l'andamento dei consumi e dei risparmi. Le altre concezioni della probabilità esistenti all'epoca di Keynes erano la probabilità classica, appunto quella relativa al lancio dei dadi, la probabilità frequentista, io osservo quello che è successo in un certo numero di casi precedenti e cerco di estrapolare. Notate che l'obiezione dei cigni neri riguarda proprio la teoria frequentista, che mi può dare delle ipotesi ma non una teoria della quale io possa essere sicuro. Molto spesso si utilizzano delle serie di dati, questo è un problema molto frequente, molto diffuso tra gli economisti di oggi, senza chiedersi se queste serie sono veramente utilizzabili per lavorarci sopra con gli strumenti della statistica, che prevederebbero indipendenza di ogni singolo evento, mentre in eventi che si succedono nel tempo questa indipendenza praticamente non c'è e molto spesso cambia proprio la natura dell'elemento osservato. Per esempio se prendo una serie degli ultimi 60 anni del prezzo del petrolio, non tengo conto che il prezzo del petrolio prima era il posted price fissato dalle multinazionali del petrolio, poi è stato il posted price fissato dall'OPEC e adesso è un prezzo fissato da mercati molto opachi, nei quali operano sostanzialmente le principali compagnie petrolifere che in qualche modo riescono a influire su questi prezzi che poi vengono presi come base per determinare i prezzi ai quali si verificano i contratti di acquisto di vendita del petrolio. La teoria soggettiva che è stata sviluppata dal nostro definetti italiano e da Ramsey, un allievo di Keynes, prevede invece che ognuno di noi faccia delle scommesse e l'unico requisito è che queste scommesse siano coerenti. Io non posso scommettere il 60% sull'uscita del rosso e il 60% sull'uscita del nero perché sono sicuro che alla lunga ci rimetto, quindi le mie scommesse debbono essere coerenti tra di loro. Posso scommettere il 60% sull'uscita del rosso e il 40% sull'uscita del nero perché in questo caso la mia scommessa è coerente, a parte il caso in cui esca lo zero, ma diciamo questo requisito trascura l'elemento che per Keynes era fondamentale del confronto con la realtà, cioè la teoria soggettiva prescinde dalla valutazione del peso dell'argomento, dalla discussione dello stato delle conoscenze che noi abbiamo. Tutto questo porta a delle differenze sostanziali per quanto riguarda le politiche economiche. Dal lato della teoria marginalista si sostiene che se i mercati vengono lasciati funzionare, l'idea della mano invisibile del mercato che può guidare verso la situazione ottimale, non sono necessarie politiche della domanda, di controllo della domanda, ma basta adottare delle politiche dell'offerta per facilitare l'adeguamento delle capacità lavorative, l'accumulazione di mezzi di produzione, in sostanza se io favorisco la crescita dei mezzi di produzione poi i mercati faranno in modo che questi mezzi di produzione verranno pienamente occupati. La teoria keynesiana non nega l'importanza delle politiche dell'offerta se ne guarda bene, solo sostiene che una volta che io ho fatto crescere la disponibilità di lavoratori e lavoratori qualificati, la disponibilità di mezzi di produzione, non è affatto detto che questi mezzi di produzione vengano pienamente occupati. In sostanza io debbo usare, utilizzare un mix piuttosto complicato di politiche dell'offerta e politiche della domanda per stimolare il comportamento dei mercati che debbono portarsi verso l'utilizzo il più pieno possibile dei mezzi di produzione disponibili. Quindi la politica economica per Keynes è un'arte, è un'arte difficile e complicata che riguarda la valutazione della situazione che abbiamo di fronte, la valutazione delle possibili reazioni dei vari soggetti, la valutazione anche del contesto internazionale che per Keynes era importantissimo e l'utilizzo di tutti gli strumenti possibili di sostegno della domanda, che non sono solo la spesa pubblica, sono anche le politiche che favoriscono la certezza. Perché? Perché Keynes gli investimenti sono favoriti da situazioni di scelte più tranquille per gli imprenditori. Noi sappiamo che un imprenditore che ha a che fare con la mafia è sottoposto a un'incertezza piuttosto notevole e quindi investe meno volentieri. Quindi se noi riusciamo a eliminare la mafia probabilmente avremo un forte miglioramento dell'economia, al di là degli sprechi correnti dei ladrocini dell'economia illegale. Concezioni politiche. Da un lato abbiamo il laissez-faire, il neoliberismo, l'idea appunto che i mercati tutto sommato sono quanto di meglio possiamo disporre, non conviene interferire con il funzionamento del mercato. Dall'altro lato Keynes diceva guardate che io sono un liberale, non un liberista, un liberale. Cioè io voglio la libertà. Proprio perché voglio la libertà e ho visto cosa succede con il fascismo e il nazismo e con il comunismo, io so che debbo all'interno di un sistema capitalista garantire la sostenibilità sociale del mercato, cioè debbo garantire una diffusione dei benefici di una produzione sostenuta, debbo garantire una produzione elevata, garantire un'occupazione sostenuta e debbo garantire anche una distribuzione del reddito che non crei troppe tensioni. Il vero liberale è uno che decide, diceva Keynes, di interferire con il mercato proprio per difendere le libertà di tutti noi. Moneta. Nella concezione marginalista la moneta è un velo ed è importante solo in quanto una quantità eccessiva di moneta determina inflazione. Se voi prendete le regole della BCE, della Banca Centrale Europea, la BCE può intervenire solo controllando l'offerta di moneta, avendo come obiettivo l'inflazione, non può intervenire di fronte a, per il sostegno dell'occupazione, proprio per divieto costitutivo. Quando Draghi ha adottato il suo quantitative easing, lo ha dovuto fare ricorrendo a delle formule un po' equivoche, che sono state oggetto di censura da parte della Corte tedesca, della Corte Suprema tedesca, cioè sostenendo che per far funzionare bene la politica monetaria occorreva immettere moneta nell'economia in una situazione di movimenti così forti dell'economia, è che il tasso di inflazione obiettivo del 2% noi eravamo al di sotto e quindi serviva più moneta. Voi pensate cosa sarebbe successo se noi ci fossimo trovati in una crisi come quella corrente con un tasso di inflazione un po' superiore al 2%, in cui Draghi non avrebbe avuto la possibilità da governatore della BCE di intervenire con un sostegno monetario. E quello che è mancato di fatti alla politica europea è stato un sostegno alla domanda, cioè si è intervenuti con una politica monetaria espansiva, ma la politica fiscale, tranne che nell'ultimo periodo come situazione del tutto eccezionale, è stata una politica fiscale neutra. In cui si è addirittura cercato di vincolare i paesi a ridurre il proprio disavanzo di bilancio. Invece per Keynes l'andamento dei mercati monetari e finanziari è il primo passo nella catena di ragionamenti che porta poi a determinare il livello degli investimenti con una teoria separata, quindi sono tre teorie separate, non sono unificabili in uno schema di equilibrio generale come fa Hicks con la scheda ISLM, perché la scheda IS e la scheda LM riguardano due mercati che operano in condizioni completamente diverse. Per gli economisti marginalisti l'inflazione è un problema che riguarda la quantità di moneta, l'offerta di moneta e i mercati finanziari essenzialmente, per i keynesiani come già per gli economisti classici l'inflazione è un problema di conflitto distributivo. Pensate alle due interpretazioni divergenti che si sono avute di fronte alle crisi petrolifere. Friedman ha sostenuto che l'inflazione degli anni 75-76, poi 78-79 era dovuta a un fortissimo aumento dell'offerta di moneta. Gli economisti keynesiani, Caldor ad esempio, hanno sostenuto che derivava dall'ingresso nella distribuzione del reddito dei produttori di petrolio che si erano assicurati una fetta più ampia e lo scontro su cui dovesse pagare questa fetta più ampia che andava ai produttori di petrolio è stato uno scontro piuttosto duro tra i lavoratori e le imprese. Le imprese aumentavano i prezzi per riassorbire i costi, i lavoratori aumentavano e chiedevano aumenti di salario per far fronte all'aumento dei prezzi, i prezzi comunque aumentavano perché aumentava il prezzo del petrolio e quindi si è determinata una spirale inflazionistica che derivava appunto da un conflitto distributivo non più tra capitalisti e lavoratori, ma tra produttori di materie prime, petrolio e produttori di il resto del mondo. Due commenti a questo proposito, primo il petrolio non è assolutamente vero che sia una risorsa scarsa, oggi di petrolio ce n'è molto di più di quanto ce ne fosse 40 anni fa, c'erano dei teorici marginalisti, club di Roma eccetera, che hanno sostenuto nel 72 che il petrolio sarebbe finito nel giro di 18 anni e noi oggi abbiamo una quantità residua di petrolio che basta per altri 40 anni almeno perché cambiano le tecnologie, le tecnologie di esplorazione, le tecnologie di sfruttamento degli giacimenti. Secondo, è vero che l'offerta di moneta era cresciuta, ma come spiegò Caldor in un famoso dibattito con Friedman alla BBC, la moneta era cresciuta perché di fronte all'aumento dei prezzi le banche avevano aumentato i finanziamenti agli imprenditori perché con prezzi maggiori gli imprenditori avevano bisogno di più finanziamenti. Cioè l'aumento dell'offerta di moneta, che non era base monetaria, biglietti, ma era moneta bancaria, quindi un elemento derivato, non era la causa dell'aumento dei prezzi, bensì l'aumento dei prezzi era la causa dell'aumento dell'offerta di moneta. Produzione Anche qui, l'idea che si sia sempre a un livello di produzione di equilibrio, naturalmente i fatti provano che non può essere accettata. Gli economisti marginalisti spiegano le deviazioni come shock derivati da errori di politica economica o da, come dire, eventi di altro tipo che allontanano dall'equilibrio. Parlano di un andamento ciclico, mentre la teoria keynesiana parla di instabilità più che di andamento ciclico e di tendenza al risplagno. Alcuni economisti keynesiani, come Ayman Minsky in particolare, hanno sviluppato una teoria delle crisi sistemiche ricorrenti ed è una teoria che è stata utilizzata da uno storico economico come Kindle Berger per spiegare le varie crisi che dall'epoca della crisi dei tulipani in Olanda nel Cinquecento si sono succedute fino ai giorni nostri e che è stata di nuovo utilizzata per spiegare la crisi del 2008. Certo non la crisi da pandemia che è più effettivamente uno shock per l'economia. Io con questo ho finito, ho cercato di fare una cavalcata molto rapida in modo da lasciare un po' di spazio per le domande anche se mi rendo conto che andando veloce non sono stato chiaro come avrei voluto. Grazie. Grazie veramente, ci sono già arrivate queste domande. Allora chiedo intanto di tenere disattivato sempre il telefono che non interviene. Adesso ci saranno un paio di interventi di non studenti e poi sono arrivate moltissime domande di studenti. Allora chiedo anche al relatore di dare risposte purtroppo brevi per cercare di rispondere il più possibile. Passo la parola a Cristina Montesi, al professoressa Cristina Montesi per la sua domanda. Prego. Grazie professore per la meravigliosa lezione che ci ha donato oggi, così ariosa e veramente densa di spunti. Io volevo chiedere questo, si avverte sempre più impellente la necessità di una scelta interdisciplinare se non addirittura transdisciplinare che superi il meccanicismo, l'atomismo e il riduzionismo della teoria economica neoclassica. Nella storia del pensiero economico a chi guarderebbe lei di più per ricongiungere da un lato etica economia e dall'altro magari sviluppo sostenibile ed economia? Risposta brevissima. Guarderei a Adam Smith che, oltre che autore della ricchezza delle nazioni, autore di un trattato sui sentimenti morali e a John Stuart Mill che è stato il primo economista a parlare dei problemi ambientali. E ne ha parlato molto bene come di un problema di esternalità della produzione che va affrontato per poter continuare a produrre. Tra l'altro, forse aggiungo una parola, Smith non aveva questa idea del soggetto economico massimizzante che è poi passata nei manuali di adesso. Per lui l'interesse personale non è egoismo, è l'interesse personale di una persona per bene, comunque, che si interessa anche del benessere degli altri e che cerca di vincere, lui fa l'esempio della gara di corsa, ma senza fare la cianghetta a quello che sta davanti. Forse converrà che prendo tre, quattro domande e forse converrà che chiunque interviene eviti di fare complimenti per non perdere tempo. Va bene, Francesco Speglione, prego. Grazie. La parola. Sì, buongiorno innanzitutto, buonasera, la ringrazio professore per questo bellissimo intervento, molto chiarificatore. La mia domanda è un po' da profano, perché io non sono proprio un economista, quindi studio questi argomenti a livello amatoriale, anche perché mi occupo del mercato, ma in senso giuridico. Tra le mie letture vi sono recentemente quelle dell'Istituto Bruno Leoni, quindi ho molto apprezzato i classici, questi del liberalismo e liberisti, diciamo questi, allora Mingardi, ma soprattutto Friedman, Hayek, ci sono queste letture, tra le mie letture, ma non ultime le sue, che mi hanno dato lo spunto, perché Vargas Losa, tra quelli che sono anche affascinati dal liberalismo. Ma leggendo i suoi libri, ho trovato che poi in fin dei conti nell'ottica smittiana questa differenza fra liberalismo e liberismo non c'è, in realtà è come lei dice, il liberismo smittiano vede invece nel mercato un'istituzione sociale delicata che va sostenuta nel suo funzionamento e quindi l'intervento pubblico non è strano all'ottica smittiana, questo l'ho preso dal mito della mano invisibile. E alla luce della pandemia, di tutto quello che sta succedendo, vedo che c'è un nuovo interventismo dello Stato in economia. Ecco, la mia domanda era questa, lei vede come una sorta di nuovo neostatalismo, questa nostalgia, diciamo, per le istituzioni in economia e per l'intervento statale, e questo, diciamo, è qualcosa che ci deve preoccupare, oppure si inserisce, non è una rivincita dello Stato, come sostiene Cingolani nel suo libro Il capitalismo buono, perché il mercato ci salverà. Ecco, Cingolani si pone il problema, forse non abbiamo una classe dirigente all'altezza per poter gestire un nuovo intervento, diciamo, un nuovo statalismo, ma in realtà lei vede come è possibile una politica economica orientata da un nuovo intervento dello Stato che sarà inevitabile in quest'epoca difficile. Noi abbiamo visto tutto quello che è successo in Italia e in Europa, no? E quindi, ecco, come vede, questo equilibrio, se Smith fosse ancora vivente, diciamo, immaginando Smith qui tra di noi, ecco, sarebbe un interventismo necessario, ecco, per salvare il nostro sistema economico, e quindi, ecco, volevo sapere un po' il suo parere, ecco, magari non ho formulato tanto bene la domanda, ma... Grazie, grazie. Ne prendiamo qualcun'altra o rispondo sì? Sì, allora, chiedo, allora, prima di arrivare agli studenti, chiedo se Augusto Vasselli vuole intervenire, se ci ascolta, se vuole attivare microfono e audio, altrimenti non so se ci sono altri colleghi, altrimenti passiamo agli studenti, ma io direi Alessandro, se ci senti, perché adesso non ti... Ancora ti vediamo di nuovo. Marcello, scusa, posso fare una domanda? Sì, allora, Manuel Vacchero, professor Vacchero, prego. Per me è un grande momento, perché il libro dell'Alessandro ce l'ho sul mio scrivania tutti i giorni, e lo apro e lo rivedo. Anche come storico economico parliamo tra cugini, quasi, eh? Mi permetto di dire, dal pensiero economico alla storia economica, siamo i più vicini qui, eh? Una domanda, perché chiaramente il mio problema è un altro, cioè, mi piacerebbe avere un'opinione del professore, si sente che è andato via? No, no, ci sono, non ci sono. Ok, perché queste due materie, pensiero economico e storia economica, che come lei ha dimostrato, sono fondamentali per capire le dinamiche dei processi economico, però oggi soffrono un progressivo ridimensionamento all'interno del sistema universitario italiano. È un problema nostro che non sappiamo interpretare i tempi moderni o siamo noi che siamo diventati un'anima umanistica all'interno dell'economia? Perché per me, ormai, la storia economica, come lei ben sa, in molti atenei a Perugia sono l'unico che fa storia economica, insomma, siamo in fase, un po', caro Marcello, di WWF, di Invia di Estrimento. Quindi, volevo capire un po', se possiamo riprendere questo eslancio dell'area umanistica dell'economia. e mi complimento sia con il collega che con il professore. Allora, prima di passare agli studenti rispondo a queste due. Sì, grazie. Grazie. Allora... E tolgo il microfono. Diciamo, lo statalismo implica una intromissione dello Stato nell'economia non giustificata in qualche modo. Ora, se noi pensiamo ai problemi dell'epidemia, della pandemia di adesso, è chiaro che noi abbiamo un contrasto tra due precetti costituzionali. La difesa della libertà individuale, quindi, il mio aspetto di non mettere le mascherine, di non farmi vaccinare, eccetera, eccetera, è la difesa della sanità, soprattutto di quella degli altri, perché io per me ho il diritto di correre tutti i rischi che voglio finché i rischi riguardano solo me. Nella situazione io penso che concordiamo tutti sul fatto, tutti no purtroppo, sul fatto che l'intervento dello Stato sia giustificato nella situazione di pandemia, che chi sostiene il contrario è in genere un ignorante dei rischi che la pandemia fa correre o li sottovaluta grandemente. Ora, la stessa cosa si verifica in campo economico. La teoria neo-imperista sostiene che, per esempio, gli interventi antitrust non vanno praticati, ma allora l'ipotesi di un'economia concorrenziale va a farsi benedire e in effetti noi non ci troviamo di fronte a un'economia concorrenziale. Se lasciamo ogni produttore libero di fare quello che vuole, è chiaro che tutte le esternalità negative, l'inquinamento, non sono controllate, quindi lo Stato deve intervenire per controllare l'inquinamento. Ora, in questi casi lo Stato può intervenire in maniera diversa, i neoliberisti sostengono che deve intervenire creando più mercati. Il problema è se questa soluzione è efficace. La creazione di mercati dei permessi di inquinamento, diciamo, funzionerebbe se non esistesse l'evasione fiscale, l'evasione dei permessi di inquinamento. Per controllare che non ci sia evasione dai permessi di inquinamento, utilizzo sbagliato, io debbo fare esattamente le stesse cose che debbo fare per controllare direttamente l'inquinamento. Non è che lo Stato deve intervenire di meno. Quindi i mercati sono semplicemente una sovrastruttura inutile, addirittura pericolosa perché il modo in cui funziona la finanza rende questi mercati maledettamente instabili e quindi accresce le difficoltà degli imprenditori di calcolare costi, possibilità di investimento e così via. Quindi diciamo un po' di intervento statale è necessario. Quello che va evitato è che lo Stato intervenga nelle situazioni in cui non è necessario che intervenga. Cioè il vero liberale è quello che dice che per quel che riguarda le scelte individuali, faccio un esempio ormai chiarissimo, le scelte sessuali, non c'è alcun bisogno che lo Stato intervenga perché queste scelte tra adulti consenzienti non hanno ricadute negative su altri adulti che differiscono come preferenze diciamo. Quindi non avrei paura di un nuovo statalismo. È chiaro e qui arrivo vengo alla seconda domanda che le grandi imprese, i grandi centri finanziari di potere finanziario sono contrari a questa linea. le ricerche sul fatto che l'inquinamento non andava combattuto sono state finanziate dalle grandi imprese petrolifere che sostenevano la Thatcher ha sostenuto che in base al principio di precauzione io dovevo dimostrare la pericolosità dell'inquinamento prima di poter intervenire. Ora il principio di precauzione dice che se c'è un danno molto grosso io devo intervenire prima. allora fa parte di questa tendenza dei centri di potere economico e finanziario quella di sostenere la teoria della mano invisibile del mercato contro le teorie keynesiane e classiche. Per sostenere la teoria della mano invisibile del mercato io debbo essenzialmente fare due operazioni che corrispondono allo strangolamento del nemico la prima operazione è quella di negare l'esistenza di teorie alternative è uscito un libro dalla Bocconi con prefazione di un ex rettore della Bocconi intitolato il negazionismo in economia i negazionisti sono tutti quelli che dicono che le teorie marginaliste sono sbagliate quindi c'è una sola teoria vera e questa teoria va sostenuta in tutti i modi possibili è chiaro che la storia del pensiero economico va affossata ed è chiaro che va affossata anche la storia dell'economia che introduce nel campo dell'economia quell'importanza dell'evoluzione del cambiamento eccetera che rendono l'idea dell'equilibrio del questa concezione marginalista una cosa come dire così astratta così irrilevante da essere ridicola poi alla fine quindi diciamo molto sinteticamente senza entrare nei comportamenti dell'Anvur e in cose che hanno occupato generazioni successive di società degli economisti insomma passerei allora alle domande degli studi sì allora passiamo agli studenti allora le raccoglierei a due ne abbiamo tantissime alcune decine addirittura allora passerei la parola se è connessa Martina Pastori che ha proposto una delle domande e poi a seguire Livia Toma e a Violi Salve allora la mia domanda diciamo che si rifà un po' a Popper e volevo sapere stando al valore pedagogico che Popper dà comunque all'errore quali ritiene che siano gli errori che sono stati commessi dalle nostre istituzioni nel gestire diciamo questo periodo storico e cosa dovremmo trarne noi come insegnamento cosa dovremmo imparare secondo lei da come il nostro Stato ha gestito tutto ciò dunque Popper dice che raccoliamo anche un'altra domanda da Livia sì salve la mia domanda invece si rifà al modello teorizzato da Schumpeter e le volevo chiedere se lei ritiene che l'attuale pandemia e le azioni innovative che verranno poste in essere per il rilancio dell'economia possono essere considerate come elementi del modello del ciclo economico utilizzato da Schumpeter stesso identificando il rapporto tra la pandemia e le azioni innovative come la distruzione che attrice e in particolare se secondo lei le innovazioni tecnologiche e green che caratterizzeranno i prossimi anni possono essere considerate la nuova macchina a vapore quindi favorendo una fase di espansione particolarmente lunga Alessandro ti chiedo brevità così ne raccogliamo molte sì ma è complicato dunque Popper parlava di utilizzare gli errori per cioè di cercare di refutare le teorie non di confermarle invece parlando della situazione economica si parla di errori nella gestione politica economica che sono molto costosi quindi noi non dobbiamo cercare gli errori nel caso delle nostre politiche economiche faremmo meglio a evitarli quello che è sicuro è che le crisi prima la crisi del 2008 adesso la pandemia ci dimostrano che l'economia è molto più instabile molto più complicata di come pensa la teoria marginalista cioè diciamo da degli elementi a sostegno della teoria chinesiana pensi ai vincoli che ha incontrato la banca centrale europea per esempio nell'affrontare la pandemia o che ha incontrato l'unione europea ora noi sappiamo che l'unione europea è intervenuta ma con difficoltà all'interno delle regole noi dovremmo cercare di avere un cambiamento delle regole in direzione di una maggiore flessibilità e un cambiamento di ciò che è dietro le regole cioè delle concezioni teoriche che hanno portato a quelle regole perché le regole della BCE sono state decise sulla base di una teoria marginalista essenzialmente Schumpeter allora che è stato il maestro del mio maestro di Silos Labini che ha studiato con lui a Harvard quindi lui ne parlava bene e male Schumpeter era un reazionario maledetto però quando morì uno dei suoi allievi che era comunista scrisse non gli importava cosa pensavamo purché pensassimo che è uno degli elogi più belli che si possano fare a un maestro o professore quindi i suoi allievi sono stati molto grandi e tutti diversi da lui la sua concezione della distruzione creatrice è profondamente sbagliata è una tesi profondamente basata sulla teoria marginalista perché sostanzialmente mi dice che io starei in piena occupazione era l'idea di Schumpeter che si tendesse alla piena occupazione e che quindi per progredire io debbo liberarmi delle imprese meno efficienti quindi più in efficienza distruggo e meglio procedo nel mondo reale quando io creo disoccupazione distruggendo imprese quel che succede è che rallenta tutta l'economia e il progresso tecnico è molto collegato all'andamento dell'economia perché la sostituzione dei macchinari con macchinari migliori va avanti continuamente ma avanti più rapidamente quando il sistema economico cresce più rapidamente l'idea della distruzione creatrice è stata adottata nei tempi più recenti dai sostenitori dell'austerità espansiva era la stessa cosa ed era ugualmente sbagliata adesso è una testa che è stata abbandonata anche dai suoi ex sostenitori però senza rivedere la teoria che li aveva portati e questo è un po' un guaio perché se non siamo capaci di criticare le nostre fondamenta poi gli errori li ripetiamo allora grazie 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 a voi chiedo a Giulia e a Gian Domenico Pio Dantuomo di porre le prossime due domande rapidamente ne abbiamo molte quindi almeno una decina prego Giulia allora buonasera volevo chiederle è possibile conciliare le teorie economiche che si basano sul benessere e continua crescita del PIL con una forma di economia circolare allora vediamo se c'è anche Gian Domenico Pio Dantuomo prego salve buonasera volevo fare due domande la prima era mi piacerebbe sapere il professor Roncai a quale scuola di pensiero si sente più vicino e se poi può gentilmente magari descrivere i principali pregi e difetti di un'eventuale liberalizzazione del mercato del lavoro grazie prego Alessandro allora John Stuart Mill sosteneva che era possibile conciliare la crescita con la difesa dell'ambiente eccetera a patto di guidare l'economia verso alcune linee di crescita piuttosto che verso altre quindi ad esempio non verso consumi di lusso inutili il che significa intervenire sulla distribuzione del reddito John Stuart Mill pensa in particolare alla tassazione dell'eredità e delle ricchezze e se invece noi lasciamo andare allora la crescita è incompatibile con dipende tutto da come ci comportiamo c'è un ecologismo negativo che dice che l'economia deve decrescere questo mio vecchio amico francese che sostiene questa tesi ma diciamo la sostiene se uno poi va a leggere i suoi libri che sono molto belli in realtà lui non la sostiene veramente lui la sostiene come paradosso cioè che sarebbe meglio un calo un freno dell'economia se l'economia deve continuare a crescere così come sta crescendo adesso seconda domanda dunque io sono uno sraffian silosiano sono i miei due maestri questa è l'unica definizione possibile che io possa accettare come vi dicevo ogni economista fa è un caso a sé quando sono stato eletto presidente della società degli economisti mi sono fatto propaganda dicendo guardate sono una minoranza così piccola così insignificante che potete stare tranquilli che non premerò contro nessuno perché dovrei premere contro tutti diciamo sarà un regno della sostanzialmente come si capisce da quello che ho sostenuto non mi piace la teoria marginalista non mi piace la teoria mainstream di oggi sono a favore di una conciliazione della teoria keynesiana con la teoria sraffiana ed è un argomento sul quale sto lavorando con un amico americano Jan Kregel e con un amico italiano Mario Tomberonaki allora grazie adesso proverei se ci riusciamo a raccoglierne tre allora chiedo a Yasmin e Mirzae e poi anche a Roberto Vestrelli e a Cristian Casagrande prego Salve allora la mia domanda è abbiamo visto che non vi è una interpretazione univoca per quanto riguarda il pensiero economico e infatti il suo libro si chiama L'età della disgregazione quindi le volevo chiedere se età in questo caso va interpretato come periodo come se secondo lei ci possa essere diciamo un superamento di questa frammentazione del pensiero Ok la prossima Salve io leggendo un report ci ha condiviso il chat mi abbiamo da questa domanda e vorrei sapere la sua idea in merito vorrei sapere quanto conta oggi la fiducia in un governo e la benevolenza attesa tra le persone nel diciamo nell'efficienza di strategie di contenimento della pandemia e nel benessere dello Stato e soprattutto se esistono delle scuole di pensiero che prendono in considerazione queste due variabili grazie domandiamo se c'è anche Cristian prego buonasera vorrei chiedere partendo dal presupposto che non esiste una teoria che comunque si può considerare giusta la teoria oggi dominante che è quella neoclassica ha dei punti deboli sotto alcuni aspetti e nonostante questo perché resta ancora la teoria dominante forse c'è una risposta che mi sono potuto dare è perché le altre teorie si sono rivelate molto più vulnerabili questa è quella che regge maggiormente grazie prego Alessandro ne vorrei raccogliere ancora qualcun'altra quindi va bene allora superamento della frammentazione una certa differenza come dire una divisione del lavoro è necessaria anche nel campo della ricerca però sarebbe bene che questa frammentazione non venisse portata all'estremo e purtroppo delle regole accademiche stanno favorendo questa frammentazione cioè il fatto che si conta il numero delle pubblicazioni e così via porta i ricercatori a pubblicare cosine sempre più piccole sempre su un campo più ristretto quindi dovrebbero cambiare le regole per permettere ai ricercatori di avere uno sguardo un po' più ampio dovrebbe cambiare la formazione degli studenti nel senso di avere una batteria più ampia cioè lo studente che studia economia non dovrebbe fare solo economia monetaria economia industriale economia scienze finanze e così via dovrebbe studiare anche appunto storia economica un briciolo di diritto un po' di statistica un po' di matematica un po' di filosofia un po' di eccetera eccetera Silos mi obbligò a fare un esame di storia economica in più a proposito rispetto a quelli che erano obbligatori in statistica lui diceva se sei obbligato a studiare la statistica e la matematica da solo non le studi quindi ti iscrivi a statistica e studi statistica e matematica però per conto tuo approfondisci anche filosofia e storia e almeno di storia un esame in più te lo devi dare questo non è sufficiente a superare la frammentazione bisogna anche che ognuno affrontando il suo campo particolare si ponga anche la domanda di fondo di cosa sono gli strumenti che utilizza all'interno del suo campo particolare cioè rifiuti la rapidità di produzione che è permessa dal non avere dubbi sulle fondamenta e questo sarebbe un problema secondo quanto conta la fiducia nel governo e la benevolenza insomma diciamo un'etica diffusa in qualche modo allora la fiducia nel governo diciamo se il governo funziona male è meglio che ci sia un'opposizione seria per creare un cambiamento nell'atteggiamento del governo non è che bisogna credere ciecamente nel governo esistente e gli stimoli seri non violenti ma seri ragionati purtroppo il dibattito economico oggi è basato su slogan dovrebbe essere basato su discussioni più approfondite gli spettacoli televisivi in cui io mi sono sempre rifiutato di andare non mi piacciono questi questi tipi di discussioni per quel che riguarda l'etica della popolazione è fondamentale molti colleghi economisti non si rendono conto che noi non possiamo ragionare come se questa variabile non fosse importante per esempio un economista dell'energia che discuta sull'opportunità o meno di costruire una centrale nucleare considerando che le centrali nucleari di oggi sono sicure deve tenere conto del fatto che se poi la costruzione della centrale nucleare viene affidata a un'impresa mafiosa che costruisce le pareti di contenimento con materiali scadenti la cosa diventa pericolosissima quindi al di là quello che dicevo prima dei problemi delle zone mafiose eccetera un'etica diffusa un'etica che rifiuti la vita che rifiuti frontalmente il malaffare è fondamentale per il progresso economico è uno dei grossi problemi dell'Italia in questo momento di fatti la riforma della giustizia che dovrebbe essere resa più efficace dovrebbe servire proprio a questo senza una maggiore diffusione dell'etica un maggior contenimento abolire totalmente la delinquenza sarà sempre impossibile ma se non riusciamo a contenerla l'Italia resterà sempre indietro dovete pensare che il piano presentato oggi scusate ho parlato troppo presenta degli aspetti di riforme strutturali proprio perché l'Italia si trova in una doppia situazione di crisi una situazione di crisi come tutto il resto del mondo per i problemi di oggi del mondo una situazione di crisi specifica dell'Italia per i motivi di debolezza propri dell'Italia e i motivi di debolezza propri dell'Italia non solo dell'Italia anche di altri paesi che sono in difficoltà per esempio in Grecia c'è una corruzione diffusa come in Italia ecco questi paesi arrancano e se non si liberano da queste cose non riusciranno a avviare un processo di sviluppo sostenuto perché la teoria dominante è dominante diciamo non perché le altre teorie sono meno forti ma perché è conveniente per le forze economiche finanziarie sostenere quella teoria il primo intervento ricordava il centro Bruno Leoni ecco i centri che finanziano economisti che lavorano nei campi del neoliberismo sono enormi l'università di Chicago è stata fondata dalla Exxon anzi dalla Rockefeller come si chiama ecco questo sostegno è uno squilibrio pesantissimo come è uno squilibrio pesantissimo gli strumenti di valutazione della ricerca che sono stati utilizzati in modo scandaloso per valutare gli economisti non mainstream c'è stata la come dire proprio una convenzione ad non ad excludendum ma ad uccidere gli economisti a eliminare i posti per i loro allievi eccetera e se noi non siamo sostenuti da fondazione anche il passaggio dalle università pubbliche Italia alle università pubbliche e lo sviluppo delle università private le università private sono sostenute da qualcuno poi pensate anche all'importanza mediatica dei quotidiani i quotidiani sono controllati dalle grandi imprese e gli economisti che scrivono sui quotidiani controllati dalle grandi imprese guarda caso possono essere di destra o di sinistra ma sono tutti neoliberisti altre domande grazie mille allora andrei forse sicuramente con un altro blocco di tre se hai voglia e tempo almeno un altro blocco di tre poi forse ci fermiamo perché ci sono ancora molte decine di domande semmai te le faccio avere e poi vedrai tu allora intanto invito Nicola Teverini poi Michele Versiglioni e Massimiliano Bifolchi se brevemente fanno le loro domande buonasera prof volevo chiederle cosa ha portato nella storia del pensiero economico alle variabili macroeconomiche ad avere più rilevanza rispetto ad altre per esempio ho chiesto in caso specifico il ruolo della moneta nel pensiero classico e successivamente nell'economia keynesiana grazie ok vediamo Michele Versiglioni se c'è e poi Massimiliano Bifolchi allora forse non ci sono allora chiedo Michele Cecchetti hanno proposto domande sulla chat Marta Furiani prego buonasera io volevo chiedere come l'aspetto geografico culturale storico di un paese abbia inciso poi nell'andare a descrivere quello che è un modello economico quindi quanto gli autori di questi modelli economici sono stati influenzati da questi fattori ora chiedo Giacomo Biscarini se c'è forse no ecco allora Giacomo Biscarini prego sì allora io volevo chiedere se alla luce delle difficoltà che le economie occidentali hanno riscontrato in questi ultimi periodi mi riferisco alla crisi dei muti subprime alla crisi del debito sovrano europeo e a questa crisi pandemica se non sia opportuno rivalutare i modelli economici sui quali le nostre economie si fondano cercando di superare magari questa contrapposizione tra visione classica e marginalista dell'economia cercando di sviluppare dei modelli economici che uniscono i punti di forza e superano le criticità invece di queste due visioni economiche grazie ok prego Alessandro brevemente ne raccogliamo magari un altro paio dopo le variabili dipende molto dalla costruzione teorica per esempio se io considero la moneta solo come un velo non sarà una variabile importante se la considero come fa Keynes come una cosa centrale diventa importante quindi la storia del pensiero economico coglie i cambiamenti di importanza delle varie variabili diciamo la seconda domanda dunque adesso non me la ritrovo in una parola no io chiedevo quanto il appunto l'evoluzione storica oppure oppure l'aspetto geografico ecco conta diciamo la cultura di un paese che riflette la diciamo anche la sua posizione geografica i suoi rapporti politici eccetera conta molto però il campo degli economisti come il campo dei medici è un campo di lavoro sostanzialmente internazionale e quindi per le teorie alla frontiera conta relativamente di meno conta di più in alcuni settori che come quelli per esempio che si occupano dei distretti industriali in cui gli economisti italiani hanno avuto un ruolo di frontiera insomma ok poi scusa io mi sono perso un minuto era sul ruolo della moneta non so se hai già risposto sì ok sul ruolo della moneta e poi la terza domanda che non avevo seguito la successione professore quella della visione se secondo lei le economie occidentali devono superare alla luce delle difficoltà questa contrapposizione tra le previsioni guardi quello che è importante è che superino le teorie neoliberiste che la posizione perché bisogna cambiare le regole di funzionamento del sistema economico anche le regole del funzionamento del sistema economico internazionale con una maggiore cooperazione Keynes aveva lavorato a Bretton Woods per gettare le basi di un sistema internazionale basato su una situazione più stabile di cambi fissi non di cambi fluttuanti di controllo della finanza internazionale Keynes era molto favorevole allo sviluppo del commercio internazionale ma non allo sviluppo della finanza internazionale e in un certo senso aveva ragione e quello che noi oggi vediamo che anche Biden sta cercando di affrontare è che non possiamo permettere una concorrenza tra sistemi in cui paradisi fiscali impediscono agli altri paesi di mettere tasse perché a quel punto le uniche tasse che possono essere messe all'interno di un paese sono quelle sui cespiti interni essenzialmente sul lavoro e sugli immobili mentre le tasse sulle aziende vengono eluse attraverso la localizzazione in paradisi fiscali quindi se non c'è una cooperazione internazionale nel controllare la finanza nel eliminare i paradisi fiscali cosa che sarebbe importantissima anche per il controllo della malavita diciamo è difficile che il sistema possa funzionare questo è più importante degli altri aspetti diciamo almeno secondo me poi posso sbagliare allora grazie senza che io sto a selezionare diciamo se ci sono un paio che vogliono proporre altre domande nella chat c'è un numero sterminato di domande però lascerei diciamo libertà a chi vuole mi sembra che c'era una studentessa prima se qualcuno un paio vogliono prego Camilla buongiorno buonasera volevo chiederle in merito alla situazione attuale di strutturale trappola della liquidità se è possibile costatare in linea con quanto analizzato con i casi chienesiani estremi l'inefficacia di politiche monetarie espansive sia attuali sia convenzionali e se è possibile rilevare come causa principale di questa inefficacia più che altro l'incertezza che caratterizza l'attuale sistema macroeconomico grazie grazie vediamo di raccogliere se c'è un'altra rispondo subito perché se no sono un po' stanco e quindi finisce che mi dimentico da un momento all'altro allora la trappola della liquidità è una teoria marginalista che sostanzialmente sostiene che io posso emettere moneta ma che il cavallo non beve perché non non si investe ora la teoria keynesiana dice che non si debbono utilizzare la teoria monetaria isolatamente che si deve utilizzare assieme alla teoria fiscale quindi l'elemento essenziale è una combinazione tra politica monetaria e politica fiscale accompagnata da interventi la politica fiscale non è solo spesa pubblica è una serie di interventi per ridurre l'incertezza nel sistema economico e favorire gli investimenti per favorire una situazione ben funzionante del sistema paese quindi appunto la lotta la delinquenza e così via allora la trappola della liquidità come diciamo si manifesta solo quando noi facciamo l'errore colossale di pensare che basta la politica monetaria per raddrizzare le cose grazie Alessandro per dirmi tu se ci vogliamo fermare oppure vai vai ancora andiamo avanti allora chiedo senza che sto a selezionare io le domande che vedo nella chat se qualcun altro vuole porre qualche altra domanda prego Adam non ti sentiamo però attiva il microfono e devi attivare il microfono o comunque si hai il microfono disattivato prego no continuiamo a non sentire professore mi scusi io prima ho avuto problemi allora Adam deve risolvere il problema col microfono quindi andiamo con Michele Versiglioni prego ho avuto problemi di connessione prima mi ha saltata praticamente la rete la domanda che ho posto in chat e che volevo porle è quella se il contesto storico e politico influenza in qualche modo il pensiero economico degli autori e al contrario se i modelli economici che vengono adottati dalle autorità competenti sono influenzati dal contesto storico e politico per l'appunto e quindi questa duplice corrispondenza tra contesto storico politico e pensiero economico grazie diciamo c'è un'influenza molto pesante ovviamente del pensiero cioè degli interventi rispetto alle condizioni circostanti pensi a quello che dicevo prima sull'esistenza dei paradisi fiscali cioè è chiaro che il contesto internazionale influisce sulle priorità anche di intervento della politica pone dei vincoli io non posso adottare certe misure fiscali di espansione della spesa pubblica e delle entrate se non posso intervenire per vincoli internazionali quindi vincoli internazionali sono importanti nella formulazione politica economica e in un senso più generale questo nel senso immediato della risposta immediata nel senso più di lungo periodo è evidente che la situazione internazionale per esempio la contrapposizione la guerra fredda tra paesi comunisti e paesi capitalisti ha avuto un'enorme influenza sullo sviluppo della teoria economica e anche sulle opinioni prevalenti cioè diciamo che nello scontro tra la tendenza le tesi pianificatrici e le tesi liberiste si è perso di vista in fondo l'elemento mediano alla John Stuart Mill di dire che lo Stato deve lasciare libertà ma deve anche intervenire per correggere l'andamento spontaneo del mercato lei pensi all'importanza che ha avuto Hayek che è un economista che sul piano della stretta teoria economica è stato ripetutamente sconfitto e che però ha avuto una importanza enorme una quantità enorme un successo enorme di pubblico perché ha sostenuto delle tesi la strada alla schiavitù eccetera delle tesi di libertà politiche in contraposizione alla dittatura e diciamo lui aveva torto secondo me sul piano della teoria economica ma chiaramente sul piano dello scontro con le dittature gli si poteva pure dare ragione quindi il contesto di scontro ha influito moltissimo sulla discussione economica quindi sia nel breve sia nel lungo periodo sono cose importanti e vedo che una domanda forse è Marta Furiani la ringrazio professore volevo fare una domanda prego senti ok allora io le volevo chiedere che all'inizio della lezione va parlato di Riccardo Traffa e di Smith non si sente benissimo se si vuole avvicinare Riccardo Traffa e di Smith si ha accennato il fatto che Traffa ha significato i fondamenti della teoria marginalista quindi la mia domanda è questa dal momento in cui Traffa fa questa critica le riformulazioni successive della teoria marginalista hanno superato le critiche poste da Traffa? Risposta no diciamo Traffa ha fatto due critiche una alla teoria marginalista dell'impresa criticando le curve a U se voi prendete i testi di microeconomia le curve a U le ritrovate tranquillamente e le critiche di Traffa erano distruttive non hanno avuto la minima risposta secondo le critiche di Traffa nel 1960 con la produzione di merci a mezzo di merci hanno riguardato una cosa più tecnica cioè il fatto che se il salario sale secondo la teoria marginalista l'occupazione dovrebbe diminuire perché si passa a tecniche a maggiore intensità di capitale siccome i beni capitali sono beni prodotti e riproducibili hanno un prezzo che dipende dal loro costo di produzione che a sua volta dipende dal costo di produzione dei prezzi dei mezzi di produzione di questi beni ecco in questo sistema di interrelazioni quello che può succedere è che l'aumento del salario porta nella direzione indicata dalla teoria marginalista o nella direzione opposta e non si può assolutamente dire che ci sia una tendenza spontanea verso l'equilibrio di piena occupazione lo stesso risultato è stato trovato anche dalla teoria dell'equilibrio economico generale che ha dimostrato la instabilità degli equilibri per tutti gli economisti marginalisti Varras Schumpeter eccetera la stabilità dell'equilibrio era una condizione fondamentale per l'utilizzabilità della loro teoria gli economisti contemporanei fanno finta che nonostante ormai tutti i ricordi conosca la non esistenza la non validità di questa stabilità come validità generale si può andare avanti lo stesso si parla di tesi come appunto la necessità di intervenire sui costi sulla distribuzione del reddito per ridurre la disoccupazione senza tenere conto del fatto che Sraffa questa tesi l'aveva criticata e non ha avuto la sua tesi nessuna risposta qualcuno ha cercato di dire che le situazioni proposte da Sraffa sono improbabili il ragionamento sarebbe molto lungo ma si può dimostrare che non sono affatto improbabili la probabilità cresce all'aumentare del numero di merci presenti nel sistema siccome il numero di merci è molto ampio la probabilità è piuttosto notevole buonasera scusate adesso mi sentite si prego se riesce a farsi anche vedere altrimenti ponga solo per vedere se l'audio funzionava buonasera intanto volevo chiedere se Cina India e Africa quindi circa 3 miliardi di persone volessero molto più di 3 miliardi circa 3 miliardi e mezzo 4 miliardi possiamo arrivare diciamo così volessero consumare risorse allo stesso livello dell'Occidente sarebbe realistico mantenere il sistema consumistico visto che viviamo in un pianeta di risorse finite ma abbiamo un sistema di consumo e di crescita che teoricamente può sempre crescere quindi uno sviluppo che può aumentare sempre al futuro sarebbe questa la domanda sì non serve nemmeno che Cina India e Africa arrivino al nostro livello se si continua sulla strada che stiamo seguendo è chiaro che i problemi ambientali cresceranno cioè già nella situazione di adesso se noi non riusciamo a tagliare l'inquinamento avremo degli effetti devastanti in futuro tanto peggio se India Cina quindi noi dobbiamo intervenire sulle tecniche di produzione sui modelli di consumo e su tutto questo sistema economico intervenire e chiaramente non lasciando fare al mercato ma intervenire guidando la produzione in direzioni sostenibili se vogliamo e guidando anche i modelli di consumo c'era stata quando ero più giovane una ricerca fatta da alcuni amici tedeschi che confrontavano due sistemi economici diversi uno in cui la passione generale era quella per le gare automobilistiche o un altro quello in cui la passione generale era per il bel canto è chiaro che da un punto di vista ecologico i due sistemi sono estremamente diversi cosa bisogna fare per andare verso il bel canto piuttosto verso le corse automobilistiche beh ci vorrebbe una educazione generale come diceva John Sturmeill anche i modelli di consumo sono influenzabili nel corso del tempo più tempo aspettiamo a intervenire per il fatto che gli interventi sono difficili e complicati e peggio è dobbiamo intervenire in modo a fare interventi di economia fra un quarto troppo finito prego Alessandro ok questa è la risposta diciamo grazie chiedo al testo di stare scontentando tutti con le risposte troppo brevi però amen allora forse Lorenzo Bulaccani voleva intervenire altrimenti passo la parola a Gusto Vasselli salve buonasera sì anche io volevo porre una domanda al professore se possibile secondo lei quale tra i due approcci tra quello cumulativo e concorrenziale era preferibile nello studio della storia del pensiero economico e poi se si è mai visto che nel corso della storia un modello economico si sia verificato perfettamente secondo quanto era stato teorizzato allora primo io nei miei libri ho seguito il modello concorrenziale quindi è chiaro che lo preferisco secondo chiaramente diciamo i modelli sono difficili da valutare nella loro complessità però ci sono stati dei casi esemplari in cui si è potuto vedere che cosa i modelli diversi prevedevano quando è scoppiata la crisi del 2008 la regina Elisabetta è andata alla Lando School of Economics e ha detto agli economisti presenti perché non mi avete avvertito lei aveva perso il 30% delle sue ricchezze con investimenti sballati gli economisti hanno cercato di dare spiegazioni dall'esterno la mia è stata è perché quelli sono tutti economisti neoclassici quando nel 2005 sono andata a prendere Silos all'uscita da una sua conferenza un suo amico un mio amico mi ha fermato dicendo guarda che Silos è impazzito sta dicendo che ci sarà una grossa crisi economica si vede che Silos era più capace e io gli avevo risposto anche secondo me ci sarà una grossa crisi economica Minsky era morto ma anche Minsky aveva previsto una grossa crisi economica cioè certi modelli hanno aiutato a prevedere quello che sarebbe successo di importante meglio di altri modelli questo lo possiamo dire quindi c'era verificato quello che avevano previsto sì grazie mille passo la parola per una domanda al dottor Augusto Vasselli prego buonasera devo ringraziare il professore anche se aveva detto all'inizio di non ringraziare perché veramente ha esposto toccando al di là della logica schematica dell'economia l'economia è anche teologia se vogliamo io volevo chiedere al professore questo quanto ritiene importante abbandonare il concetto di distribuzione del reddito nella logica classica ossia fordista e unità di bene prodotto in questo schema così che vede un'altissima automazione e addirittura l'introduzione dell'intelligenza artificiale guardi questi temi sono affrontati oggi più dai sociologi che dagli economisti ci deve essere un po' di cooperazione tra i sociologi e gli economisti perché i sociologi sostengono che la bipartizione in due classi fondamentali dei lavoratori e i capitalisti oggi è sbagliata e non regge è più importante l'adozione di un sistema a più classi diciamo a più ceti se vogliamo più che classi il sistema si è complicato se vogliamo oggi quello che succede è che l'automazione va nella strada indicata da case cioè che il problema del sostegno all'occupazione diventa sempre più importante si può andare verso una riduzione degli orari di lavoro ma il progresso tecnico non può andare solo verso un aumento dei consumi chiaramente e se non cresce la domanda quando aumenta la produttività quello che succede è che diminuisce l'occupazione e quindi noi andiamo semmai verso una bipolarizzazione tra i non protetti e i protetti quelli che hanno un lavoro e quelli che non ce l'hanno il guaio è che i non protetti se si sentono scaricati nella confronto politico che riguarda la vecchia il vecchio scontro distributivo finiscono nelle braccia dei demagoghi essenzialmente e questo purtroppo è l'impressione che ho della situazione politica italiana diciamo allora Alessandro io non so siamo vicini alle due ore guarda a me dispiace sottrarmi cioè vi ho afflitto con quella mia chiacchierata mi sembra giusto adesso essere bersagliato dalle allora guarda anziché chiamare se c'è qualcun altro uno o due ultime domande magari attivano il video e si propongono altrimenti sintetizzo una domanda di Tommaso Ercolani che è uno studente della magistrale che lui chiede la sintetizzo se è possibile una sorta di superamento dell'attuale condizione della BCE della Banca Centrale Europea è una sua tendenza di avvicinamento verso un modello Fed Federal Reserve e beh la BCE è vincolata a combattere solo l'inflazione la Fed invece ha il compito di tenere in equilibrio l'economia nel suo complesso la BCE si basa su un'interpretazione molto rigida della teoria marginalista la moneta velo per cui la BCE si occupa della moneta e per il resto non se ne deve occupare per cambiare le regole fondamentali della BCE bisogna che cambi la mentalità prevalente tra gli economisti altrimenti la BCE dovrà seguire degli escamotaggi come ha fatto Draghi e come in parte ha fatto anche la Lafarga la sì la Lafarga chiedo se c'è un'ultima domanda da parte dei studenti altrimenti ne ho una io in fondo allora intanto se c'è un altro studente magari si fa vedere la può porre intanto te la pongo la sintetizzo perché a me delle tante cose che ci hai detto due in particolare mi hanno colpito cioè il richiamo sulla questione del cigno nero e la questione relativa all'incertezza due cose che sono peraltro anche collegate a dei concetti che tu hai richiamato parlando di Knight di Keynes eccetera ma tu pensi che gli economisti i giovani economisti tengano conto di questi elementi di realtà anche da un punto di vista teorico e quindi di approfondimento magari anche degli sviluppi del passato nel comprendere la realtà attuale oppure diciamo ci dobbiamo rassegnare a una situazione in cui le giovani generazioni di economisti fondano la loro carriera in primis su degli sviluppi prevalentemente atemporali o comunque astorici che trascurano la vera essenza delle condizioni di incertezza in senso forte e quindi la possibilità che si abbiano dei shock macroeconomici rilevanti guarda che quello che fanno i giovani economisti è colpa nostra primo perché noi siamo noi voi io no molto conformisti nella scelta dei programmi dei corsi che facciamo Silos faceva un corso che iniziava con la teoria marginalista e procedeva con Sraffa e Keynes il commento di Sraffa fu prima li corrompi e poi li redimi però in sostanza presentava tutte e tre le posizioni oggi si tende a presentare una posizione sola e questo è sbagliatissimo in questo modo diseduchi le giovani generazioni alla discussione secondo sono le regole che noi abbiamo accettato non abbiamo combattuto con sufficiente forza di selezione delle carriere se noi puntiamo a considerare il numero di articoli pubblicati è chiaro che gli articoli saranno patatine un tempo Silos diceva per diventare professore ci vogliono patatine e una bistecca cioè un libro un lavoro approfondito che dia un segno di meditazione oggi il problema è di contare le patatine la bistecca non serve più non la vuole più nessuno ecco se non torniamo a quella situazione le giovani generazioni faranno quello che vorranno fare all'epoca mia c'era anche una certa passione politica cioè noi facciamo gli economisti per cambiare il mondo Gesù oggi questa passione politica diciamo si è un po' persa per strada ma anche questo forse è colpa nostra che quasi consideriamo sbagliato il parlare delle nostre passioni ecco pensiamo a Schumpeter no lui poteva dire tranquillamente tutto quello che voleva di reazionario nelle sue elezioni però l'importante era che rispettava che gli studenti poi pensassero avessero le loro opinioni ma c'era uno scambio vero oggi questo scambio questo confronto purtroppo non c'è più non c'è né con gli studenti né tra i vecchi come me e i più giovani ricercatori di oggi tranne che il mio gruppo Alessandro io ti ringrazio veramente tanto nel mio piccolo a lezione io e anche la collega Cristina Montesi che tiene alcune lezioni cerchiamo sempre di spingere gli studenti avere una loro visione anche critica e anche magari molto distante io sono coautore del manuale che utilizzo di politica economica quindi chiaramente lo studente già per questo tende diciamo inerzialmente è spinto a appiattirsi su quei contenuti però per quanto possibile cerchiamo di spingerli appunto in una loro capacità di valutazione e di analisi critica magari anche molto distante da quella di noi docenti questo però deve essere chiaro fin dalle prime lezioni di modo che il loro modo di affrontare poi anche l'esame sia realmente libero anche libero dal rischio appunto di essere penalizzati se ci si scosta magari da una presunta posizione più o meno più o meno tale su delle indicazioni di politica economica contenute nel libro quindi il determinismo di molti libri anche di molti manuali purtroppo ha creato degli studenti che intanto inadeguati a capire la realtà ma anche poi sempre più distanti dalla macroeconomia e dallo studio dell'economia non aziendalistica che vuoi aggiungere in conclusione? Basta Allora ancora grazie grazie anche ai colleghi che sono intervenuti grazie a tutti e ai tantissimi studenti che hanno proposto nel loro slide Alessandro grazie veramente buona serata a tutti grazie 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 al professor Signorelli che ha promosso questo in una chiave appunto interdisciplinare e anche terrodossa un sentito ringraziamento arrivederci buonasera professor Roncaglia grazie